La storia di un imprenditore capace di trasformare un'idea geniale in un successo senza frontiere, stimolo per i tanti giovani che hanno voglia di scommettere e investire. Dopo l'eco deflagrante a portarlo all'attenzione di tutti i media, per Angelo Bisconti arriva ora anche l'occasione di fare del suo pasticciotto Obama, addirittura un film prodotto dalla Sharon Cinema Production di Maglie. Sette settimane di lavorazione, a partire dal prossimo aprile, divise tra il Salento e l'America. Non è semplicemente il pasticciotto, ma Bisconti porta alle spalle un grande bagaglio sia di cultura e sia come un imprenditore che di questi tempi ce ne vuole ad averne. Il sogno sarebbe quello di avere Checco Zalone come attore a sintetizzare al meglio le doti del protagonista umiltà, genuinità e simpatia. Titolo provvisorio del film 50 centesimi a raccontare la vita e la carriera del famoso pasticciere Salentino, a prendere in largo proprio dall'interesse della nostra emittente per quella sua strana passione tutta americana, a portarlo a dedicare al suo idolo, il presidente Obama, la variante al cacao del noto pasticciotto leccese, mai sapendo che sarebbe stata la chiave del suo successo. In questo film secondo me ci saranno delle cose importanti, cose che avrei voluto fare nella vita e non le ho fatte, ci sono cose che ho fatto e non lo sa nessuno, quindi ci sarà anche qualche sorpresa che stupirà insomma più di qualcuno.